Oh Barberini, Carla ci sei? Ci sono Bianca, grazie, allora noi ci vediamo a tra poco Ciao Francesco, bentornato, come stai? Ciao, ciao a tutti, bene Allora, per chi non ti conoscesse ancora, dubito siano molti, spieghiamo di cosa ti occupi quindi di che una piccola mini presentazione tua Allora, io sono Francesco, sono un aspirante ornitologo quindi mi piace tanto la natura, quindi mi occupo della divulgazione perché come dico sempre, se la natura la conosci, la ami e se la ami la proteggi Bravo, bravo, e visto che non fai già abbastanza cose naturalmente hai deciso anche di diventare cintura marrone di karate io credo di avere una fotografia Eccoci qui Complimenti, complimenti ma dove lo trovi il tempo di fare tutto e anche di fare le mosse di karate? Io sono cintura nera vorrei dirti Eh, bene, guarda che già sto facendo Vediamo se lo sai fare E certo che lo so fare, un po' a mio modo, naturalmente con stile Francesco, Francesco carissimo, bando alle ciance Siamo qui per lavorare, nelle scorse puntate hai realizzato una casetta nido per dare riparo agli uccelli, quindi una mangiatoia Oggi ci insegnerai a costruire un abbeveratoio Fai da te, diamolo corrente Allora, per l'abbeveratoio, quindi un sottovaso in plastica, una bottiglia di plastica, una vite, un bullone, un cacciavite, filo metallico, una pinza e colla caldo E noi direi abbiamo tutto l'occorrente Sì, assolutamente Ho deciso di fare un abbeveratoio anche perché in vista dell'estate, in un periodo caldo Quindi gli uccelli hanno spesso difficoltà, soprattutto nei grandi centri urbani, nel trovare acqua Allora, partiamo, iniziamo Possiamo iniziare Allora, prendiamo un sottovaso Sì E poi prendiamo, allora, questa è una bottiglia di plastica Sì, esatto Quindi ricicliamo, è molto importante Ottimo, ottimo Riciclare, quindi prendiamo il tappo E la bottiglia E lo, che cosa facciamo? Lo incolliamo con della colla caldo Va bene Ecco, facciamo, diciamo, la colla è d'abbassamento a questo tappino Ecco, io ti seguo perfettamente Ok, c'è un buco al centro Sì, certo Ok, allora, questo prendiamo il prodotto che sarà finito Sì, perché la colla caldo ha bisogno di qualche minuto per asciugare E poi? Allora, quindi, prendiamo, allora, c'è un buco al centro Che cosa faremo? Sì Prenderemo e metteremo un perno Eccolo qui Una vite Sì Una vite con i bulloni, vedo Ok, e avvitiamo Questo diventerà un abbeveratoio, quindi l'acqua che entrerà dentro Poi, se gli uccelli berranno, poi l'acqua continuerà a scendere Certo, quindi utilizziamo una bottiglia che immagino, credo, sia a capovolta in questo caso, no? All'interno di questo tappino Proprio perché farà fuoriuscire l'acqua Eccoci qui E ci vuole un po' di tempo perché la vita è bella lunga Ottimo Ci siamo Ecco, fatto Ecco Bene Ok, allora Allora, caro frate Io ti blocco un attimo perché ci dobbiamo interrompere qualche secondo Torniamo tra poco Ben tornati, ben tornati a detto fatto Sono in compagnia con il nostro aspirante ornitologo Francesco Barberini Stavamo proprio preparando un abbeveratoio Eravamo arrivati un po' a metà dell'opera Allora, abbiamo preso una bottiglia, ovviamente vuota Abbiamo già costruito e legato la nostra bottiglia con un fil di ferro Abbiamo creato una base E adesso la andiamo ad avvitare Sì, in effetti nella bottiglia ci sono dei furi Dei piccoli furi Da cui uscirà l'acqua Esatto Poi quindi andiamo ad avvitare Esatto Chiaramente la bottiglia sarà piena d'acqua quindi sopra Sì, portattamente era vuota Francesco perché mi era già caduta la bottiglia Ok, e così faccio vedere un attimo con l'acqua Ecco, già preparata Quindi questo è il momento della verità Vediamo se funziona Wow Bravissima Sì, infatti sta scendendo l'acqua proprio nell'abbeveratoio Tra l'altro è una cosa che si può avere semplicemente riciclando anche le bottiglie dell'acqua Quindi è una bellissima idea Grazie Francesco Adesso noi andiamo a sistemare sul nostro albero Ovviamente tutto in fiore che abbiamo qui dietro Andiamo a sistemare il nostro abbeveratoio Eccolo qui E quindi i nostri volatili saranno felici Allora, fra pochi giorni sarà il 22 aprile, non dimentichiamolo E sarà l'Earth Day, ovvero la giornata dedicata alla salute della Terra E la siccità effettivamente è uno dei problemi più gravi Che colpisce anche i nostri amici volatili Ecco perché abbiamo costruito quest'idea, realizzato quest'idea Francesco, la primavera, quarantena permettendo ovviamente E anche il periodo delle passeggiate all'aria aperte Mentre si cammina, si spera presto Immersi nella natura per praticare il famoso bird watching Ci spieghi di che si tratta? Allora, il bird watching sarebbe l'osservazione degli uccelli in natura Quindi la si può fare in tutti i luoghi dove almeno c'è un po' di natura Anche nei grandi centri urbani è molto bello sia per osservare tante bellissime specie di uccelli Anche per costruire un rapporto con la natura Senti, e che genere di attrezzatura ci serve per chi volesse praticare appunto il bird watching? Sì, allora qui abbiamo uno zaino Allora, sì, serve anche tanta pazienza, è chiaro Allora, serve un binocolo, un binocolo per osservare gli uccelli E qui l'ho trovato, anche io ce l'ho, già pronta con il mio binocolo, perfetto Poi abbiamo bisogno anche di un tacquino magari, dove magari segnarci Appuntare le specie che osserviamo, per esempio E poi anche, è chiaro, una guida Una guida, quindi anche un po' di conoscenza delle specie che si possono osservare Esatto, quindi con le immagini e le fotografie Allora, la nostra scenografia ci ha preparato quattro tipi di ambienti diversi Perché ciascuna specie di volatile prelegie ovviamente un ambiente particolare Una è una ringhiera, l'altra un'antenna, un albero e una siepe Facciamo un gioco, tu mi fai vedere una sagoma di volatile E io devo indovinare in quale ambiente va messo Ci stai? Va benissimo, guarda Io però non me la sento di affrontare questa sfida da solo Avrei bisogno di un aiutino da casa Gambi, ci sei? Sì, ci sono, vi sto seguendo con grande passione Ciao Francesco, sei meraviglioso, bravo, bravo, bravo Dai, perfetto Gambi, allora mi dovresti aiutare perché non sono sicura di farcela Capire quale luogo idoneo per questi volatili ovviamente che adesso Francesco ci proporrà Ok, partiamo Vai, sfida, sfida con Carla Sfida Partiamo con la prima sfida, allora questa è la sagoma di una rondine Ecco, direi che Dove si bosa? Allora, io la vedo sempre sul mio terrazzo, la banconata, la ringhiera diciamo Però non so se questo vale per tutte le rondine Io direi, scusate, direi anche io ringhiera perché hai fatto sì con la testa, l'ho visto Quindi dovrebbe essere tutto Ma no, ma cos'hai oggi, cos'hai oggi, fa il notaio No, veramente È giusto, è giusto Ho dato la motivazione perché le vedo sulla ringhiera del mio terrazzo Eccolo qui, quindi ci ho preso Ecco, adesso vediamo, facciamo proprio il, ecco l'azione del bear watching, ecco qui E infatti noi le vedremo in dettaglio Bene, passiamo alla seconda sfida Sì, vediamo Allora, adesso abbiamo questa che è la sagoma di una passera d'Italia, questo è un maschio Ecco Dove si può trovare anche mentre che canta? Vai Gabi, questa non la so, vai tu Questa secondo me si trova sulla siepe, su una siepe un classico No, è sbagliato Ecco, vedi, non le sai Allora, di solito si mette a cantare sulle antenne, le possiamo osservare È vero, i passerotti, è vero, hai ragione, sulle antenne o anche i fili della luce, insomma, è vero Allora, niente, adesso guardiamole e facciamo proprio l'azione del bear watching E in effetti si vedono tutti i dettagli, Francesco, hai ragione, tutto il piumaggio È giusto, Carla, se canta vicino l'antenna si sente anche meglio perché prende meglio, è normale È vero, benissimo Hai ragione, allora, passiamo, passiamo al terzo Sì, allora, adesso prendiamo la sagoma di una passera mattugia, che è un parente della passera d'Italia Sì Maschi e femmina non si riconoscono, è una piccola eccezione Ecco, ma mi viene da dire in buon senso che si poserà sempre sull'antenna, sono cugini? Allora, di solito, visto che è anche più piccola, si posa abitualmente in delle siepie Ah, ecco, si distanza Ah! Si distanza dal cugino o dalla cugina A me subito hai detto, ah, hai sbagliato, hai sbagliato, a Carla invece niente, ah, solitamente, vedi, che sfidure diverse Guarda, non sei di grande aiuto, Giampaolo, vabbè, per questa volta passi, grazie Giampaolo Prego, ciao a tutti Ciao, grazie Allora, Francesco, c'è un'altra curiosità Si riescono a riconoscere i volatili attraverso il fischiettio? Come si fa? Sì, con i canti, è come se si vedesse triplo, perché si sentono anche i canti degli uccelli che non vediamo con gli occhi Allora, mi sa che sia arrivato il momento del quiz ornitologico musicale Regia, tenete buono e fermo quel pavone Francesco, so che il canto che stiamo... senti, senti, continua questo pavone Che stiamo... ecco, è uno dei quattro uccelli che è rimasto ancora in gioco E io devo indovinare qual è, perché lo vediamo qui Allora, pronti via? Allora, sentiamo il canto del primo uccello tra quelli rimasti Ma questo mi sembrerebbe... mi sembrerebbe un, non so, pettirosso Allora, in realtà... Un patolio, indovino In realtà questo è il canto della capinera, che è questo uccello qui Sì È un uccello di boscaglia La femmina si riconosce perché invece di avere la testa nera, ha la testa marroncina E quindi andiamo a far... ecco Quindi si riconoscono anche del più maggio, alcune volte, maschio e femmina Perfetto, passiamo al secondo audio Sì, sentiamo Questo... strilla Questo è più complicato... strilla, strilla, quindi uno strillozzo Giusto Sono andata... ho indovinato, ma... eccolo qui Sì, eccolo qua... di solito si mettono a cantare in punti dove si possono sentire bene Quindi vicino alla rondine, sulla ringhiera E va bene Sentiamo l'ultimo canto Sì, sentiamo l'ultimo Questo è difficile No, vabbè, dai, io con sto favore non ne posso più Regia Regia E ora lo mettiamo a me... lo mettiamo... Mi sono guadagnata... Nel suo ambiente naturale La mia postazione Grazie Francesco, grazie di essere stato qui con noi Grazie a voi E le cose interessantissime che ci racconti sul mondo dei nostri amici volateli Adesso Grazie a voi